La loro intenzione era quella di costituire una struttura politica di ideologia fascista. Sono diversi gli estremisti di destra appartenenti al movimento Ultima Legione, indagati e coinvolti nell'indagine svolta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dai poliziotti della Digos dell'Aquila e diretta dalla Procura della Repubblica del Capoluogo Abruzzese, anche con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 25 decreti di perquisizione in tutta Italia, in 18 province. Le indagini sono partite nel gennaio del 2019, controllando alcune chat su Telegram e WhatsApp. Ultima Legione e Boia Chi Molla, sulle quali gli indagati reclutavano militanti, ma sotto osservazione anche un social network russo, noto per assenza di censura. In Abruzzo le perquisizioni hanno riguardato, da quel che si sa, un paese nella zona est dell'Aquila, Vezzano, Manchechieti e Pescara. Agli appartenenti all'organizzazione viene contestato il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, con istigazione all'uso della violenza quale metodo di lotta politica e diffusione online di materiale che incita all'odio e alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi. L'antiterrorismo è riuscito a delineare l'organigramma dei tesserati ad Ultima Legione. Nelle perquisizioni condotte è stato rinvenuto del materiale che confermerebbe il quadro accusatorio, in particolare trovati video e simboli che neggiano al nazismo, esaltando le stragi di matrice suprematista. Immagini e video sono stati trovati nella disponibilità di tre soggetti, a Firenze, Prato e Grosseto, considerati gli animatori delle due chat controllate dagli investigatori, che non escludono che, oltre a reclutare militanti, coinvolti volessero compiere azioni violente. Hanno preso parte alle indagini diverse digos. Gli accertamenti di natura informatica sono stati svolti invece con il coordinamento del servizio centrale della Polizia Postale e delle comunicazioni. Il gruppo Ultima Legione ha anche un sito web con foto e video. Nasce come movimento politico ad ottobre nel 2018. Nella pagina dicono che non sono facinorosi, non sono per la violenza e non sono razzisti, ma sono per la legalità e l'onestà. Analizzate dagli inquirenti, anche delle riunioni organizzative di propaganda promosse da Ultima Legione a Predappio, documentate da foto e dichiarazioni sui profili e sulle community di Ultima Legione, molte le frasi estrapolate dalle chat che denigrano i valori della resistenza il 25 aprile, ma anche la Costituzione italiana. La violenza per gli investigatori viene considerata un metodo di lotta politica che si evince da alcuni messaggi in chat, in cui si parla spesso di ricorso alle armi. Dichiarazioni e meme trovati nelle conversazioni si riferiscono poi alla negazione della Shoah o all'esaltazione delle leggi razziali. Diversi riferimenti ai flussi migratori e alla pandemia in corso, vista in chiave complottista e negazionista. Un appartenente al movimento commenta i filmati di Brescia con le bari dei deceduti a casa del Covid, facendo parallelismi con forni crematori, Hitler e l'Olocausto.